Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui su Megmotori Endgame. Qui con voi è Dario Mantovani che se non lo conoscete ancora è gestore di questo canale YouTube e vi chiedo quindi di iscrivervi e di mettere un like a questo video e anche gestore della squadra Corsa Futura Corsa, ok? Bene, oggi vi voglio fare un video diverso dallo solito perché voglio presentarvi il mio nuovo progetto, ok? Questo progetto si chiama Selection Day e permetterà la selezione di nuovi piloti per il 2019 da mettere all'interno del team di Futura Corsa nei diversi campionati che parteciperemo, ok? Questi piloti verranno quindi affiancati poi dai quelli che ci sono attualmente, non è che ci sostituiscono, capito? Bene, e ora vi spiego, ho tutto scritto qua, così non mi sbaglio in quello che vi voglio dire. Allora, praticamente, sono un po' eccitato nel dirvi questo progetto, però praticamente funziona così. Ci sono dei requisiti da rispettare per entrare in questa selezione e adesso ve le allencherò. Se hai la passione per i motori puoi partecipare, se ami le competizioni e non hai paura della velocità puoi partecipare, se hai almeno 15 anni fino ad arrivare a 60 anni puoi partecipare, se sei maschio o femmina puoi partecipare con gli entrambi i sessi, se hai esperienza o non hai esperienza sul go-kart, non mi importa, vieni e puoi partecipare. A questo Selection Day by Futura Corsa e Magmotor & Games Come si svolgerà la selezione dei piloti? La selezione dei piloti si svolgerà su una pista di go-kart, Renta, dell'Emilia-Romagna o Veneto. Sarà una di queste due regioni a ospitare la giornata di selezione, ok? Non ci saranno altre per motivi logistici, ma anche a quanti piloti si iscriveranno, diciamo, li chiamo già piloti, a quante persone si iscriveranno per diventare piloti, ok? Tra tutti i partecipanti piloti ne verranno presi solo 10, che verranno inseriti quindi nella squadra futura Corsa. Ok, come vengono selezionati questi 10? Ma praticamente nella sessione di prove, diciamo, dove correrete in parte insieme, in parte no, ok? Sulla pista sull'Emilia-Romagna o in Veneto, dove prenderemo i 10 migliori tempi o le 10 migliori prestazioni. Comunque, dopo, nel frattempo che passeranno i giorni da questo video che caricherò, metterò ancora più dettagli se avrete bisogno. Poi, andiamo avanti. Cosa bisogna fare per iscriversi a questa Selection Day? Ovviamente, mi direte, dovete mandare un'email a selectionday-gmail.com che troverete adesso qua sotto, qua sotto, da qualche parte, qua nel video lo troverete, è anche comunque nella descrizione, dove iscriverete, in caso che siate maggiorenni, tutti i vostri dati fiscali e che volete partecipare al campionato. Se siete minorenni, fate iscrivere al genitore una delega oppure che si esiste al nome del genitore il pilota che dovrà venire. Ovviamente, per iscriversi al campionato, c'è da versare una piccola quota, una piccola quota che non è tanto per guadagnarci su dei soldi, ma per avere la certezza che voi ci sciate, perché comunque fermare una pista e poi non vi presentate ha un costo, e li li metto fuori io. Quindi il costo di, diciamo, iscrizione è di 30 euro. 30 euro che coprirà la sessione di prove, il vestiario, l'assicurazione, e tutto quello che c'è. Comunque sarà, in ogni caso, ci saranno dei piccoli premi, anche per quelli che non vorranno selezionati, ok? E quindi è una cosa bella per riuscire a provare a poter diventare pilota, bene. Poi c'è già un gruppo chiuso, che non potete vedere adesso perché dovreste farmi richiesta, un gruppo Selection Day Futura Corsa, ok? Dove praticamente tutti i piloti che si sono registrati e iscritti potranno entrare e dove potete prendere ulteriori informazioni. Se non siete iscritti in questo gruppo, se non siete iscritti al Selection Day e avete sversato la quota, non potete entrare nel gruppo. Detto questo, cosa fa questa cosa qua? Finalmente dà la possibilità a tutti voi, spettatori di questo canale e ad altri, se passate anche parole, che vogliono entrare in motorsport, una possibilità per entrare nel mondo renta, ovviamente quello più semplice, quello più diretto, ma che ha dato grande già risultati con i vecchi piloti nella selezione dell'anno scorso, fatto in una maniera molto più semplice, dove però i due dei 5 piloti che sono partiti hanno già vinto delle gare nel campionato FKPR e in tante altre corse e i piloti veterani che sono partiti che si sono uniti ai futuri corse hanno vinto ulteriori gare. Quindi il sistema Futura Corsa si può dire che funzioni, è un sistema che può portare a livello sportivo delle grandi soddisfazioni e conosce tutto il mondo nuovo. Se poi è questo il tuo sogno, penso che non c'è nessuno che vi può aprire diciamo il mondo delle corse a livello così base al pubblico normale, a pubblico quello che si sogna magari di giocarci con la play ma non la realtà. In questo video è tutto quindi se volete partecipare inviate un'email a selectionday.gmail.com con tutti i vostri dati, io vi risponderò con i metodi di pagamento che ve lo indico già, possono essere un fico bancario, un pagamento su Paypal o una ricarica post pay. Accetto questi tre tipi di pagamento, no contanti. Ovviamente al momento di iscrizione deve essere, come ripeto, non è perché voglio essere fiscale, ma è per far capire, versate la quota, così vi prenotate il posto. In caso di mancanza di quota il posto non è prenotato. Ci sarà l'apertura della selezione da oggi, 12 settembre, ok, a 12 ottobre diciamo. Avrete un mese circa di tempo, il giorno, poi, nel frattempo che vedo man mano che si iscrive la gente, i piloti, spero tanti, vi dirò tutte le date e tutte le piste possibili, ok? Sicuramente le piste per l'Emilia Romagna sarà l'Extrema Car Speedway e probabilmente per il Veneto che ho già kart, che sono le poste del piste dove io mi trovo meglio e dove ci sono gestiti meglio i go kart e tutto il sistema di cose. Quindi ragazzi, spero che vi piaccia questa idea, è un'idea per far iniziare nuovi piloti o anche piloti che magari lo sono già ma non hanno più lo stimolo di mettersi alla prova e anche gente che non ha mai preso in mano un go kart di poter cimentarsi in una cosa nuova. Perché non provare? Selection Day è per tutti, Selection Day è per te. Ci sentiamo! Ciao! Ciao!